Il covid-19 ha rallentato la sua diffusione e diminuito la pressione anche nel nostro territorio, ma di coronavirus si muore ancora. Nella giornata di ieri sono stati registrati altri due decessi, 145 i positivi diagnosticati nelle ultime 24 ore, 286 i guariti. Il bollettino, l'unità di crisi della Regione Piemonte, ha comunicato 3.142 nuovi casi di persone risultate positive al covid, pari al 7,6% di 41.268 tamponi eseguiti. Il totale dei casi positivi diventa quindi 956.908, 37.056 a Biella. I ricoverati in terapia intensiva sono 66 con meno 8 ricoveri rispetto alla giornata precedente. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.220.972, mentre i decessi diventano 12.903 in Piemonte e 493 morti di covid a Biella.